Ciao Kit! Ciao amico! Come ti senti? Per usare un termine umano, mi sento euforico. Il giusto stato d'animo per proporti una novità. Avanti, sentiamo di che si tratta. Ti andrebbe di fare un po' di trading? Sei dotato di molta fantasia, non sono sicuro di seguire la tua logica. Si tratta di una nuova funzione? Attualmente ho nel mio sistema più di 50 milioni di funzioni e posso introdurne un milione in più al giorno se ne avessi bisogno. Questa è una sorpresa di cui posso fare il meno. Tranquillo, dai che lo troverai bello. Io trovo bello un circuito di silicone. Fare 200 miglia con un gallone di benzina è bello per me. Attiva la piattaforma. Non dirai sul serio? Invece sì. D'accordo. Purtroppo sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini. RICI CREDIZIALE RICI CREDIZIALE Richard 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 Cosa posso fare? Kit, ci sei? Dove vuoi che sei? Dammi la lista dei depositi Esattamente ciò che intendo fare Perfetto! Ho trovato un conti, conto 005990001027168 Rubriche disponibili Bene Ho trovato tre rubriche Ricerca titolo Ricenuto Che tipo di ricerca preferisci? Per nome, tic o isine Ricerca titolo per nome D'accordo Attenzione! Per la ricerca per nome Devi inserire un pat di almeno tre caratteri Facendo lo spelling F Bene F I Bene Si A Bene Fiat Fiat Esegui D'accordo Ho trovato 1.865 titoli Prossimo titolo Bene Prossimo titolo Bene Chiudi Ricerca titoli Prossimo titoli Ricerca titoli Ricerca titoli Ricerca per ticchera Bene Attenzione! Ticcher mancante, pronuncialo facendo lo spelling Mercato e borsa non valorizzati F F Bene F F Mostra mercati Perfetto Perfetto Ho trovato 18 mercati Esegui 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 Sono stati trovati un titolo Chiudi ricerca titoli Bene Serie storica Ricevuta È necessario indicare i parametri come la frequenza di campionamento Frequenza 3 minuti Bene Specificare la data di inizio campionamento Inserisci anno, mese e giorno 2011 Bene 2011 Agosto Bene 2011 agosto 22 Bene 2011 agosto 22 Esegui Bene Chiudi serie storica Ricevuta L'atmosfera inizia a scaldarsi Apri il vetro Buona idea Apri il book Ricevuta Dammi ultimo prezzo Bene 4,024 Sposta su monitor 1 Molto divertente Sposta su monitor 2 E' fermo Cosa fai? Grazie Ma temo che questo giochetto abbia danneggiato i miei circuiti Infatti vedo Una sovratensione Perfetto 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 Buc avanzato Sei sempre esagerato Sei sempre esagerato Sei sempre esagerato